Un salvataggio esterno per evitarne uno interno. In poche parole, il governo mette sul tavolo 900 milioni di euro per salvare la Banca Popolare di Bari e i suoi correntisti e il suo azionariato per evitare la direttiva europea sul bail-in, che provocò molti drammi ai risparmiatori ai tempi del crack delle banche toscane e venete. Vogliamo tutelare i risparmiatori? Non vogliamo concedere nulla ai banchieri, cioè a coloro che sono responsabili di questa situazione critica. Il governo italiano, per celare le divisioni interne tra riformisti e massimalisti bancari, dichiara guerra ai responsabili del crack, tra cui, si sospetta, ci sia anche Banca Italia. Ma tocca alla Commissione europea interpretare le regole con severità e dire, guarda un po', questo è un caso di aiuto di Stato e se si vuole raggiungere l'obiettivo finale di avere un mercato competitivo, dobbiamo applicare le regole. Ma questo non riguarda solo l'Italia, in questo caso specifico abbiamo visto una situazione analoga due settimane fa in Germania per la banca Nord LB. Così gli stati membri si trovano spesso di fronte al dilemma se rispettare la legislazione europea o proteggere i risparmi agli investimenti dei loro cittadini, che sono anche degli elettori.